Terza vittima per il crollo di Scampia nell'ospedale Cardarelli di Napoli è deceduta Patrizia della Ragione, 53 anni, era stata ricoverata per un politrauma, aveva riportato anche la frattura della milza e del bacino. Patrizia era la madre di Roberto Abruzzo, la prima vittima del crollo di 29 anni. L'altra vittima, Margherita della Ragione, 35 anni, era la nipote della donna deceduta oggi. Giuseppe e Luisa Abruzzo, rispettivamente di 34 e 23 anni, figli di Patrizia della Ragione, sono ora ricoverati nell'ospedale del mare. Giuseppe è in gravi condizioni. La donna deceduta era la nonna di quattro delle sette bambine ricoverate nell'ospedale pediatrico Santo Bono. Secondo quanto riferisce il bollettino ufficiale dell'ospedale Cardarelli, alle ore 13 circa i sanitari del reparto di rianimazione hanno constatato il decesso della paziente, Patrizia della Ragione, ricoverata a seguito del crollo di scampia. Le condizioni della donna erano apparse da subito disperate, tanto da essere immediatamente accolta nel reparto di rianimazione del padiglione di emergenza dell'ospedale. Attualmente lo stesso reparto accoglie una seconda donna giunta in ospedale a seguito del crollo che, pur presentando un quadro estremamente grave, si trova in una condizione stabile. Presso l'ospedale Cardarelli, inoltre ricoverata nel trauma center, una paziente le cui condizioni sono soddisfacenti e il quadro clinico è in miglioramento rispetto alle 24 ore precedenti. C'è anzi apprezzone per le condizioni delle bambine rimaste ferite dal crollo nella vela celeste. In particolar modo preoccupano le due bambine di 4 e 7 anni. L'ultimo bollettino dice che le bimbe sono in condizioni stabili pur nell'estrema gravità. Gli altre tre piccole pazienti rispettivamente di 10, 2 e 9 anni ricoverati in ortopedia sono state sottoposte tutte e tre ad intervento chirurgico. Una per frattura di femore esposta, un'altra per frattura chiusa del terzo distale dell'omero sinistro, l'ultima per frattura oomero sinistro scomposta prossimale. Le tre bambine sono al momento stabili. Le ultime due di 2 e 4 anni ricoverate in chirurgia, di urgenza, sono stabili e in osservazione. Ascoltiamo la dottoressa Maria Vittoria Montemurro, direttrice sanitaria ospedale Santo Bono. Le bimbe sono tutt'oggi ricoverate in rianimazione, le nostre due piccole, le condizioni versano gravissime, la prognosi è assolutamente riservata e sono assistite con tutte le dovizie del caso. Le bimbe che sono state sottoposte, che avevano una prevalenza di contusioni traumatiche osse, sono state tutte quante sottoposte ad intervento chirurgico e tranne per una bambina che aveva problemi, trauma, una frattura anche del masticcio facciale alla quale non abbiamo potuto ancora procedere avendo lei nel crollo riportato anche uno pneumotorace. Quindi aspettiamo la risoluzione di quest'ultimo. Le due piccole che sono invece in chirurgia d'urgenza restano in osservazione, al momento non hanno indicazione chirurgica di patologia e restano però sotto stretta osservazione. Ma cos'è accaduto nella tarda sera di lunedì sul ballatoio delle vele? Accedere è stata una passerella al terzo piano che collega il corridoio esterno a un'abitazione, molto probabilmente per l'eccessivo peso. Infatti sul ballatoio c'era il nucleo familiare coinvolto nel crollo che era lì per prendere il fresco. Alcuni abitanti delle vele puntano il dito contro la mancata manutenzione che ha reso pericolosi quei giganteschi edifici, altri sostengono che il cantiere per la ristrutturazione appena avviato possa aver generato problemi di tenuta, anche se in realtà non è stata effettuata ancora nessuna lavorazione impattante sull'edificio. Ma si procede anche per la strada dell'abusivismo. Adesso si stanno selezionando le macerie per capire se le passerelle che hanno ceduto sono originali o ricostruite artigianalmente. Se fosse confermata la seconda ipotesi, questa potrebbe essere la causa principale del crollo, ma per adesso non ci sono certezze né conferme da parte di chi indaga. Continua il dramma per le 800 persone sfollate che adesso hanno paura di rientrare a casa e vivono l'angoscia di ritrovarsi senza un tetto costretti a situazioni d'emergenza. Tanti bambini, gli anziani disabili che si ritrovano a vivere una situazione di grande disagio. Ieri sera sono rientrate 300 persone in alcuni alloggi risultati in sicurezza. Per gli altri sfollati sono state messe a disposizione le palestre delle scuole e del quartiere, ma subito è partita la gara di solidarietà grazie alle associazioni, parrocchie e società sportive del territorio per offrire alloggi e per avviare la raccolta di generi di prima necessità per aiutare le tante famiglie in difficoltà. È un incubo comune, stiamo ancora male. Non conosco nessuno, però è un fatto di solidarietà e ci siamo sentiti in dovere di dare un sostegno a queste persone. Alcune persone invece si sono dirette nella vicina facoltà di medicina della Federico II per trovare il refrigerio dal forte caldo. Si è parlato di occupazione, ma il rettore dell'Ateneo Matteo Lorito ha subito chiarito le porte dell'Ateneo sono aperte per chi ha necessità di un ricovero. La disgrazia accaduta ci tocca fortemente, naturalmente le porte della nostra sede sono aperte per coloro che hanno necessità di un ricovero. Ascoltiamo Vincenzo Paradisone, presidente della consulta delle associazioni dell'ottava municipalità. Tutte le persone che vogliono contribuire lo possono fare contattando o le associazioni o la municipalità e possono dirigersi sul posto, ci sono dei punti di raccolta. Questa non è una tragedia solo di Scampia o solo di Napoli. Il messaggio che vogliamo far passare è che questa è una tragedia nazionale. I cittadini delle vele sono cittadini italiani. Le persone che non ci sono più erano cittadini italiani. I bambini che sono ricoverati al Santo Bono sono bambini italiani. Quindi questa è una tragedia italiana, della nazione italiana. Ci auspichiamo che lo Stato faccia tutto il possibile per risolvere quanto prima questa situazione d'emergenza. Credo che già in giornata potremo avere qualche alloggio in più, ma le persone possono liberamente scegliere. Ne hanno facoltà. Io rispetto il loro pensiero, sono loro vicino. Noi dobbiamo accompagnare queste persone verso soluzioni migliorative. Così il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, facendo il punto della situazione rispetto agli alloggi agibili nella Vela Celeste, che al momento sono 66. Ricordando poi che sono in corso le verifiche, 300 persone possono già entrare negli alloggi e altre lo potranno fare tra 10 al massimo 15 giorni. Le sue parole. Ascoltiamo. Abbiamo nella riunione, che ho ottenuto poco fa, stabilito che anche le persone che sono all'università possano avere tutti i comfort possibili, dalle brandine, docce e quant'altro. Ci sono strutture già attrezzate, però risulta che molte famiglie hanno scelto di alloggiare presso parenti. La chiesa locale si sta muovendo bene con un grande imbito di solidarietà, come il terzo settore, come la regione Campania, come il comune di Napoli. Ecco, noi stiamo seguendo tutte queste situazioni perché sia i disabili, che sono stati già ieri, tutti sono stati alloggiati nelle strutture, sia le persone che hanno difficoltà, sia i minori, sia i fragili possono avere davvero un accompagnamento che deve essere sempre nel segno della massima dignità della persona.